Registrazione, eccoci qui! Benvenuto al Power Hour, in questo episodio parliamo di Mindset Digitale, ovvero di come sbloccare il tuo potenziale, andare online e fare risultati. Che tu sia un imprenditore classico non importa, l'importante è che tu sappia che online è un gioco totalmente diverso, purtroppo internet ha cambiato le carte in tavola e se un tempo riuscivi a sopravvivere con i tuoi clienti nel mercato tradizionale, beh oggi non è più così, oggi è totalmente diverso e devi anche avere un approccio totalmente diverso. Ho il mio smartphone qui con me e andiamo a vedere un po' chi è collegato, se guardi in basso ricordati che sto guardando le tue domande, se sei su YouTube iscriviti al canale e tu che sei su Facebook iscriviti al canale YouTube Fabio Gallerani Official perché ci sono tutti i replay dei miei live, dei miei contenuti e soprattutto il grande grande valore dedicato a tre argomenti principalmente, branding e posizionamento, ovvero chi sei tu e perché gli altri dovrebbero pagarti, vendite digitali e soprattutto online business, online strategy, online imprenditoria digitale, ok? Andiamo a vedere un po' chi c'è, dovrebbero esserci un sacco di persone oggi collegate, sono già un sacco, eccole qua, andiamo a fare un paio di saluti, Giuliana, Tony, Daria, Cristian, Alessandro, Teresa, Vittoria, tutte le persone che si stanno collegando, allora, come promesso, in questo live parliamo di imprenditoria digitale e della mentalità che devi avere per non lasciare perdere, perché qualsiasi cosa tu stia portando avanti non devi mollare a metà strada tra la prova di lavorare online e il successo effettivo ed comprovato, un successo che sicuramente non tarderà ad arrivare se hai la mentalità giusta, se sai esattamente in che step sei e se non lasci perdere. Sto parlando anche a te, imprenditore o libero professionista, perché so che stai avendo difficoltà, magari ha aperto un nuovo e-commerce online degli stessi prodotti che tu vendi nel tuo negozio fisico e ti sta rubando clienti, questo lo capisco ed è per questo che devi prendere la pala al balzo e attaccare questo settore adesso, o mai più, perché sennò verrai spazzato via e non ci sono mezzi termini, non ci sono speranze di sopravvivenza. Allora, andiamo a vedere un po' chi si sta collegando, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Ciao Katia, appuntamento imperdibile, dice, ciao Wanda, ciao Chiara. Allora, 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 condividi questo live e tagga 5 persone, fai in modo che queste informazioni vadano virali, che possano interessare più persone possibili. Andiamo a vedere qua se riesco a velocizzare, perfetto. Allora, parliamo di routine dell'imprenditore digitale, ovvero cosa devi fare tu come imprenditore digitale per fare grandi risultati, per fare in modo di capire che se tu decidi di lavorare online, purtroppo tutto ciò che ti caratterizzava prima nel mondo offline, nel mondo reale, non puoi più seguirlo. Soprattutto in questo live mi occuperò di darti le chiavi strategiche per capire esattamente come evitare di farti buttare giù dai tuoi vecchi amici, dal tuo ex marito, oppure a tutte quelle persone che svalutano il tuo lavoro, il tuo sforzo di lavorare sul digitale, portare avanti magari un progetto che avevi solo nella tua mente, magari dieci anni fa, ma che oggi è possibile materializzare online. Allora, andiamo a parlare della tua routine dell'imprenditore digitale. Che tu abbia una professione e la vuoi mettere online. Sto lavorando con una avvocatessa che si occupa di diritto internazionale e privacy, e lei ha detto io devo assolutamente andare online perché sennò qui non ne esco. Infatti ci sono un sacco di avvocati che non hanno più clienti o meglio vengono asfaltati da quelli professionisti che riescono a digitalizzare il loro prodotto, il loro servizio, le loro informazioni. Per questa ragione quando tu sei un professionista, un imprenditore e sposti l'attenzione online è un gioco totalmente diverso ed è realmente importante che tu capisca che c'è una routine totalmente diversa, una routine che tu stesso devi essere in grado di seguire e non mollare per un tempo sostenuto e non solo per una settimana o un mese in cui dici sì dai provo a mettere il mio business online, vediamo cosa succede. Beh così non funziona e ti dirò in questo live il perché non funziona. Se non l'hai ancora fatto condividi e tagga 5 persone. Allora, cosa devi fare se stai portando un'offerta online? Ovvero se stai creando il tuo sito, se stai lanciando le prime campagne pubblicitarie? Beh devi iniziare a capire che non c'è mai fine alla creazione di contenuti. Creare contenuti continuamente è il tuo lavoro, è il tuo obbligo e se non lo vuoi fare tu in prima persona devi ingaggiare qualcuno che lo fa per te. Questo è importante perché quando arrivi online c'è un casino totale e quindi devi essere capace di uscire dalla massa, uscire dalla mediocrità e fare in modo che le persone attorno a te capiscano che tu sei lì per rimanerci. C'è anche un'analogia di Instagram che ha un algoritmo ben preciso. Se tu su Instagram non pubblichi una storia o una foto ogni giorno Instagram pensa che tu non lo prendi sul serio e quindi non fa più vedere i tuoi contenuti agli altri. Questa è una cosa abbastanza sadica da parte dei social media ma è una verità assoluta e la stessa cosa è online. Se tu non crei contenuti ogni giorno sei fuori dal gioco, sei fuori dal giro. Cosa vuol dire creare contenuti? Vuol dire creare blog post, vuol dire creare video, vuol dire creare articoli, vuol dire creare podcast, curare il canale YouTube, curare il tuo email marketing, curare il martellamento costante e onnipresente sul web. Quindi mi raccomando, essenziale fare in modo che tutto questo sia seguito. Non puoi lavorare sul web e non puoi pensare di diventare un imprenditore digitale se non hai nella mente e nel mindset, se non sei settato bene, che devi creare contenuti sempre e comunque giorno e notte, giorno dopo giorno, perché chi crea più contenuti vince. Questo è un dato di fatto. Ti faccio anche una domanda. Tu che sei in diretta, crei contenuti ogni giorno? Quindi questo primo step della routine dell'imprenditore digitale è creare contenuti. Tu che sei in questa diretta, crei contenuti ogni giorno oppure ti lasci prendere un po' dal fatto che sì, dai, quella roba lì sul web, sto facendo la pagina Facebook, il canale YouTube, sì, lo farò domani. Beh, la differenza tra chi fa i soldi e chi fa risultati online e tra chi non li fa è proprio questa. Le persone che prendono l'online come un hobby sono destinate a sparire a breve perché il gioco sta diventando sempre più duro e solo le persone più costanti, coerenti e forti rimangono a galla. Quindi, vediamo un po' se mi rispondete. Potrei fare di meglio, dice Danny. Sonia, eccola qua in diretta, ormai sento la tua voce anche fuori onda, pazzesco. Allora, allora, quindi tu che contenuti stai creando oggi? Perché questa è la domanda. Se tu non stai creando contenuti sul tuo prodotto comunque che danno valore agli altri, perché c'è anche un paradosso che le persone creano contenuti che non servono una mazza e dicono, ma perché nessuno interagisce con me? Beh, la ragione è perché il tuo contenuto non mi risolve nessun problema e per questa ragione perché dovrei pagarti, perché dovrei ascoltarti? Quindi, che tipo di contenuti stai creando oggi? Per me oggi è stata una giornata di email marketing, ho scritto varie email per i miei clienti, i miei futuri clienti. È stata una giornata di creazione di contenuti nelle ad, ovvero nella pubblicità che spingo sul web ogni giorno, che ottimizziamo qui i marketing genius ogni giorno e soprattutto è stata una giornata in cui adesso sono in diretta con te. Quindi non importa quanta gente c'è in diretta, questo contenuto poi sarà caricato anche sul mio canale YouTube e migliaia di persone lo vedranno sia su YouTube che su Facebook. Quindi, ho più possibilità io come marketer, imprenditore digitale, ad avere un impatto sulle persone là fuori o tu che oggi non stai creando contenuti? Quindi, primo step della routine dell'imprenditore digitale, crea contenuti. Vediamo un po' di commenti, arrivata anche Rosa, Yuri, Claudia. Quindi, mi raccomando, crea contenuti. Cosa fai dopo con questi contenuti? Li devi promuovere. Se non promuovi contenuti continuamente là fuori, pagando, pagare è la parola chiave sul web. Se non promuovi, non fai test, non saprai mai se i contenuti che stai creando hanno un senso. Perché creare contenuti, postare su Instagram, postare su Facebook, postare su YouTube, creare roba che non funziona, o meglio che butti lì e nessuno vede, non serve assolutamente a niente. Non serve a te per raccogliere informazioni, non serve al cliente perché non lo vede. Se pubblichi sulla tua pagina Facebook e non paghi, nessuno vede quello che pubblichi. Secondo te Facebook è scemo? Facebook vive di advertising, come Google. Google vive perché fanno AdWords. Quindi, la cosa che devi farci con questi contenuti non è pubblicarla e spammarla in mille gruppi, è pagare e fare test. Quindi, mindset dell'imprenditore digitale, creo contenuti ogni giorno, creo contenuti ogni giorno, creo contenuti ogni giorno, test, martello, test, pago. Vado a vedere dai 40 ai 50 anni. Vediamo un po' tra i 40 ai 50 anni che esatta età ha la persona che interagisce meglio con quel contenuto. Perché attenzione, tu puoi attaccare il tuo target con diversi angoli. Quindi, chi interagisce meglio con il tuo contenuto? Lo sai, se non lo sai, non farai mai una lira. Quindi, se in questo momento sei un imprenditore, un professionista e stai promuovendo il tuo prodotto online, sappi che ci sono centinaia di altre persone come te. E se tu non sei un professionista e costante in quello che fai nella creazione di contenuti, perché dovrei pagarti, che differenziano il tuo brand, sparirai presto. Quindi, questa sera voglio ridisegnare la mentalità che hai approcciando questo mondo digitale. Perché vedo troppe persone che dicono, ma è troppo difficile, ma non ho avuto risultati. Ma quanto cazzo hai speso? Ho speso 5 euro. Ho speso 5 euro e dopo due test ho lasciato perdere. Beh, allora torna, torna a tirar giù la saracinesca perché verrai asfaltato pesantemente da chi sa lavorare online nei prossimi anni. Lo dicevo già nel 2017, oggi è il 2019, le cose si sono fatte più dure, non c'è più spazio per i principianti. Nel 2017 c'era sì spazio per persone che provavano lì, cazzeggiavano, oggi non è più così. Quindi, o ti formi sul digitale o sei fregato. Però voglio che tu sappia che contenuti, voglio che tu sappia che devi testare questi contenuti e soprattutto poi cosa succede? Arrivano contatti. Cosa fai con questi contatti? Devi trasformarli in clienti. Se non sai esattamente cosa dire a questi contatti per trasformarli in clienti non serve a niente creare contenuti, non serve a niente fare pubblicità perché non sai capire che una persona che ti chiede info non è detto che voglio pagarti. Ci sono persone che guardano 100 siti contemporaneamente, aprono 100 finestre e fanno vedere la persona più credibile, l'autorità, la persona che ha più autorevolezza, che ti dà più fiducia, giusto? Perché tu paghi le persone che ti piacciono, di cui ti fidi e che sai che possono risolvere il tuo problema. Quindi la domanda che ti faccio adesso è, sai gestire i contatti? Quando ti arriva un contatto cosa gli dici? Oppure fammi sapere nei commenti, anche su YouTube, qui sotto, commenta qui sotto, qual è l'obiezione che ti fa più spesso un contatto? O meglio ti chiedo informazioni, ma è interessante quello che fai, interessante il tuo servizio. Qual è la cosa che accade più spesso con questi contatti? Fammi sapere qui nei commenti. Sto creando ogni giorno, devo promuovere la pagina per farla crescere e poi parto con la promozione dei contenuti. Giusto. Non sono costante, male Manuela, non arriverai mai da nessuna parte, sapete che io dico le cose come stanno in faccia? Non esiste nessuno in Italia più polarizzato di me sul mondo digitale delle vendite, di come fatturare di più. Molti mi chiamano l'arma segreta degli imprenditori che vogliono digitalizzarsi, forse questo è vero perché sto vedendo una differenza abissale proprio. Lavorando con professionisti che hanno magari un negozio fisico, sto vedendo una differenza abissale di quanto queste persone si staccano poi dalla competizione e la asfaltano, la annullano. Cioè proprio la competizione rimane lì con le briciole e loro iniziano a chiapparsi tutti i clienti. Quindi in questo momento sei in pericolo, sei in pericolo di scomparire, sei in pericolo neanche di partire online perché se non segui questa routine non ce la farai mai. Quindi contenuti, promozione, contest, devi avere dei dati chiari. Se sei un mio studente, uno studente di Matteo Pitaluga in Marketing Genius sai esattamente di cosa parlo. Se non sai di cosa parlo, beh datti una mossa perché se non ti muovi oggi sul digitale sei fuori. Sai perché dovresti seguire me, Matteo Pitaluga in Marketing Genius e tutto il movimento che abbiamo creato? Sai perché? Perché parliamo di pratica. In questo momento tu non hai bisogno di teoria. Il marketing digitale è pratica pura. Devi prendere le informazioni e fare test e vedere i numeri. Se non sei in grado di fare questo, puoi fare mille corsi di formazione, ma rimarai sempre a piedi senza un euro in tasca. Questa è la verità atroce e questa è una verità che non tutti vogliono dirti. Anzi, molti la fanno facile. Sì, vai con la strategia incredibile. Non serve a nulla la strategia universale. Tu hai un business che è unico, hai dei clienti che sono unici e devi essere in grado di targetizzarli e prendere gli soldi. Quindi cosa succede? Succede che se tu crei contenuti, fai test e gestisci questi contatti che ti arrivano, devi poi chiudere la vendita. Chiudere la vendita è uno sport ormai dimenticato. Vedo una valanga di professionisti che hanno contatti su Facebook dappertutto e poi non fatturano un euro in più. Perché? Perché non sanno esattamente come superare le obiezioni di non ho soldi, non ho tempo, ci penso, ti faccio sapere, mandami un preventivo. Quindi tu come rispondi a queste obiezioni? Facciamo un po' di interazione, facciamo un po' di interazione. Tu come rispondi a queste obiezioni? Fammi sapere nei commenti. Come rispondi all'obiezione? Magari ti arriva un contatto e ti dice, ma ti faccio sapere, ci devo pensare, ci sono anche altre persone come te. Tu come rispondi a un'obiezione del genere? Perché se non hai una risposta in un secondo in questo live, vuol dire che non sai farlo. E se non sai farlo, quello che succede è che tu inizi a promuovere come i pazzi sul web e poi cosa succede? Succede che bruci i soldi, bruci il budget, bruci i soldi. Ti fai male per questa ragione che poi molli. Quindi devi vivere sempre in offensiva. Devi vivere sempre in offensiva sul web. Non puoi stare in difensiva. Ma avrò mandato troppe email a quella persona. Ma non starò rompendo troppo le palle? La risposta è no. Perché? Perché ci sono altre centinaia di persone che stanno martellando più di te. Ti fregano il cliente. Se ti fregano il cliente, tu chiudi domani. Ok, vediamo un po' di commenti. Quindi, allora, siete silenziosi. Fammi sapere nei commenti qual è la tua più grande sfida in questo momento. Qual è la tua più grande sfida in questo momento? Riesci a attrarre contatti e prendergli soldi? Perché questa è la chiave, anche online. La tua routine deve essere così. Deve essere creazione di contenuti, li butto sul web, pago, prendo i contatti e mi pagano. Fine. Creo contenuti, attraggo persone nel mio negozio, entrano nel negozio, mi pagano. Perché se tu non sei in grado di fare questo, allora è un problema in risolvibile, è un problema che non ha cura. È un problema incurabile. Ok? E allora, fra pochi minuti, parleremo anche di come fare in modo di eliminare tutte quelle persone attorno a te che non vivono il tuo stesso stile di vita. Perché c'è una grande verità. La grande verità è purtroppo che le persone attorno a te vivono nel matrix. Il matrix è un ambiente organizzato, un ambiente organizzato, in cui le persone si sentono tranquille. Che però impone loro di vendere il loro tempo. Questo non vuol dire che non devi mai lavorare. Anzi, da imprenditore tu lavori ancora di più, ma sei fuori dal matrix, sei sopra. E quindi lo vedi da sopra. Ok? Lo vedi da sopra. Cosa succede? Che se lo vedi da sopra avrai tempo libero quando le altre persone non hanno tempo libero. E ti prenderai male. Ti posso dire che è un processo doloroso di staccarti dall'abitudine e iniziare a capire che sei diverso. Perché se hai preso la strada digitale e imprenditoriale hai sicuramente l'opportunità di fare tanti soldi, ma come di perderne tanti. Oppure di diventare libero, ma oppure di schiavizzarti con il tuo business. Perché? Perché ci sono imprenditori digitali che non delegano. Quindi fanno tutto loro, creano contenuti, fanno le ads e poi fanno i live su Facebook e fanno tutto. Io e Matteo abbiamo un team dietro. Un team che edita i contenuti, un team che ci prepara il sistema, un team che gestisce i contatti, un team che chiude le vendite. Non è che Fabio Gallerani va a chiudere le vendite del suo prodotto. O meglio, potrei farlo se hai un profilo abbastanza interessante. Se vedo che non c'è bisogno del mio intervento, lo faccio fare al mio team, perché tu devi delegare. Quindi andremo ad analizzare a brevissimo come staccarsi da quelle persone che non escono dal Matrix, si accontentano, stanno bene così, ma soprattutto non vivono questo stile di vita, questo mindset. Creazione contenuti, test, contatti, vendite. Perché? Perché queste persone dalle 9 alle 5, che magari sei tu in questo momento, ma se vuoi staccarti da questo dramma devi fare qualcosa di diverso, queste persone alle 5 di pomeriggio escono dal lavoro e vogliono sballarsi. Cioè ero così anch'io quando io facevo un lavoro da dipendente, volevo divertirmi. Non è che stavo lì a menarla e a lavorare di notte. In realtà sì, perché volevo diventare imprenditore. Però all'inizio, quando facevo il cameriere negli Stati Uniti, nel 2011, finivo il turno, contavo i soldi e me li andavo a sputtanare. Ma è normale, perché tu sei stanco di essere sotto controllo, sotto pressione. Però queste persone non vanno bene attorno a te se tu stai lavorando nel digitale. Non vanno bene perché vivono uno stile di vita totalmente diverso. Capisci? Quindi, vediamo un po', verissimo, ciao, ciao, dici la verità, ecco. Allora, hai qualche domanda? Se hai qualche domanda fammela nei commenti, se no ho preparato un video per te e te lo mando in diretta a brevissimo. Volevo vedere qua, ho ancora un paio di minuti. Quindi, evita chi ha una routine in posta. Questo è il primo messaggio che ti lancio. Evita chi ha una routine in posta. Perché le persone che hanno una routine in posta, quando sono libere, vogliono sballarsi. E lo sballo, le distrazioni sono il lusso dei poveri. Te lo dice una persona in diretta che guadagna dai 40 ai 50 mila euro netti al mese, se non ci credi, cazzi tuoi, perché se mi segui veramente sai che numeri facciamo qua dentro. 40-50 mila euro al mese netti, ok? A 30 anni, ok? Trovami un trentenne che fa questi risultati. Perché? Perché te lo dico perché così almeno vedi la fine del film, ok? Io non sono uno di quelli che ti spam, però se vuoi in privato te li faccio vedere i miei guadagni. Non voglio metterli pubblici sul web, anche perché ho lavorato come i cani per arrivare qui. 9 anni di massacro. Solo due anni fa io guadagnavo 2-3 mila euro al mese. 4-5. Però passare da 5 ai 50 ti posso dire che la canzone cambia, la vita cambia e diventi libero. Libero, ho mandato in pensione mia madre quest'anno. Se mi segui lo sai, la sai la storia. Se sei un imprenditore che mi segue per la prima volta, vatti a vedere la sofferenza che c'è stata da parte mia per essere qualificato di insegnarti sta roba. Dopo aver lavorato sul campo con decine e decine di imprenditori, aver visto la loro paura negli occhi prima di fallire, averli risollevati grazie al digitale. Fatti un giro. Fatti un giro nel mio webinar. C'è il link qui sopra. www.training.fabirallerani.com Vatti a vedere un po' di storie di successo. Allora, voglio farti vedere un video che in realtà è di un anno fa, ma è un bel video. Un video sulla mentalità, un video anche su tutto questo lavoro che stiamo facendo per gli imprenditori, i professionisti, i persone che vogliono andare sul web. Ci vediamo subito dopo e continuiamo a parlare di chi evitare nel mondo reale se vuoi lavorare sul digitale e chi invece incontrare e condividere il tuo percorso. Ti mando un saluto e ci vediamo qua fra due minuti. E io credo che tanti imprenditori là fuori abbiano bisogno anche di sentirsi parte di qualcosa che li supporta. Per noi il digital marketing è supporto alle persone per migliorare la loro vita. Per questo abbiamo scritto quell'ebook. Chi ha letto l'ebook? Persone normali, risultati straordinari. Quell'ebook è un po' la storia di come è iniziato Marketing Genius. Marketing Genius è iniziata nel novembre 2016 con Matteo Pittaluga e mi fa voglio lanciare un corso di digital perché ho scoperto che se ce l'ho fatta io ce la possono fare tutti. Matteo Pittaluga non era così come lo vedete adesso. Ha cambiato la sua mente formandosi per anni e adesso è convinto assieme a me che questa sia l'opportunità del momento perché non sappiamo quanto più in là Facebook, Google, YouTube siano così predisposti a darci accesso in maniera così facile. Giusto? Siete d'accordo? Eccoci tornati, eccoci tornati. Ti è piaciuto il video? Quello lì è l'evento dell'anno scorso a Roma in cui parlavamo un po' del perché abbiamo fondato Marketing Genius e del perché formarti nel digitale è l'unica via oggi. E quello che sto vedendo, vediamo un po' se è tutto ok, direi di sì. Dove trovo persone con la mia stessa mentalità? Federico, le trovi? Sono le persone che sono in questo live, sono le persone che seguono me e Matteo Pittaluga, sono gli all-inners, persone che non mollano mai. Io e Matteo, a differenza di tutti i formatori che lo fanno solo per soldi, abbiamo creato una cultura attorno al marketing digitale. Se tu studi sta roba senza una cultura dietro, senza un motivo superiore, non ce la farai mai, mollerai, perché è una sofferenza mostruosa per me, per Matteo, per tutti i marketer di altissimo livello. Pensa quanto devi soffrire tu per arrivare al nostro livello. Pensa quanto abbiamo sofferto noi per arrivare qui senza nessuno che ci diceva cosa cliccare, come vedere le statistiche. nessuno ci ha aiutato. Io ho perso il 2015-2016 a perdere tempo, perdere soldi, perché non avevo nessuno che mi diceva cosa fare, cosa cliccare, qual era la strada da seguire, la mentalità da avere. Oggi sei fortunato tu, perché oggi c'è un overdose di formazione, ma tu devi vedere e formarti anche con la gente, che uno era come te nel passato, ovvero io ero nel tuo posto, ero una persona che non era soddisfatta della propria carriera, ero povero, ok? Non avevo una lira, questo lo dico con orgoglio. Perché ho voluto fare i soldi? Io avevo un terrore molto grande, un terrore incredibile, il terrore di andare a lavorare in ufficio, ok? Non chiedermi perché, ma il fatto di chiudermi fra quattro mura, ok? In una sedia, con qualcuno che mi dicesse quando potevo andarmene e avere l'orologio che girava, era un incubo. Io quel terrore, quel attacco di panico che mi veniva quando pensavo a sta roba, mi ha dato la forza per spingere, spingere come i pazzi, perdere ore, anni della mia vita, io ho perso tutti i miei vecchi amici. Quindi se in questo momento tu non sei disposto ad abbandonare chi sei per diventare chi dovrai diventare, se lo vuoi diventare, cioè tu potresti anche star bene dove sei, se stai bene dove sei, mi chiedo perché tu sei in questo live. Perché segui Fabio Gallerani? Perché mi segui? Fammi sapere nei commenti. Io parlo di vendita e di fatturare di più, perché è l'unico modo per te di cambiare vita. Non hai altri modi, non hai altre vie, è impossibile. Se non fai la grana sei fottuto in questo mondo, lo capisci? E poi si chiedono, ci sono altri professionisti che purtroppo parlano male di altri, però io apprezzo un commento che ha fatto uno di questi, che vive tra l'altro qui a Dubai dove siamo noi, e lui ha detto appena fai i risultati vattene dalle palle, vattene via, non puoi stare in un territorio, in un'economia, dove ti fottono i soldi, dove te li rubano. Chi lavora sul web è una persona libera. Quindi per quale maledetta ragione una persona libera deve farsi prosciugare di tasse da un paese che non lo supporta, dove non usa i servizi, dove non me ne frega niente, se ho un problema fisico me ne vado da un privato perché se aspetto il pubblico muoio di fame, e muoio, muoio, non che di fame, muoio perché aspetto sei mesi, ho male magari al petto, aspetto cinque mesi per una visita, vado al pronto soccorso, sono sei ore lì in fila. Quindi se io uso già il privato e sono un professionista, un imprenditore, lavoro sul web, Qual è la ragione che ti tiene in questo momento in un territorio che non ti riconosce? Io ho fatto uno step, ti faccio capire il processo dell'imprenditore digitale di successo, perché tu puoi vedere gente che parla, millanta, ma intanto vivono ancora nelle case popolari, dove sono. Allora ti spiego. Fabio Gallerani, 2016-2015, Ferrara, Italia. Dopo anni negli Stati Uniti, da cameriere, umile, avevo fallito pesantemente, ero tornato a vivere con i miei genitori, sposato, vivevo con i miei genitori. Pensa l'umiliazione, anche il fatto di comunque dire, non so che strada prendere, per adesso mi fermo. Quindi Italia. 2015-2016, zero euro, zero totale, zero, un disastro totale, perdita di soldi, perdita di tempo, non ho neanche fatto in tempo a far partire la mia azienda, era impossibile. 2017, prendo una decisione, vado a vivere in Spagna, da aprile 2017 lavoro con la mia nuova azienda in Spagna, sono stati momenti duri, momenti in cui non facevo un euro, non facevo un euro, poi ho iniziato a carburare. 2018, la Spagna mi sta stretta, ho la macchina aziendale, mangio fuori ogni giorno, c'ho lo stile di vita da ricco, ok, peccato che poi, dopo una certa cifra, mi fregano il 40%. Cosa fa l'imprenditore digitale intelligente? Fa un altro sacrificio. 2018, dicembre, decido di andare a vivere dove? In un posto dove non si pagano le tasse. Perché? Perché guadagnavo così tanto che mi ero rotto le palle di dare la metà a un governo, poi spagnolo, che cazzo me ne frega di dare i soldi alla Spagna, in cui non avevo niente in cambio. Quindi l'imprenditore digitale di successo, che fa minimo 30.000 euro al mese netti, in tasca, vuol dire in banca, tuo, non nell'azienda, non nel conto tuoi in tasca, deve prendere una decisione. Le decisioni erano Dubai, Malta, però mi fregavano il 15%, mi stava sulle palle, poi Malta è un posto in cui veramente c'è un ambiente inquietante, te lo dico, chiaro, poi se ti piace Malta questa è la tua scelta. Gibraltar, mi sembrava di essere un contrabandista, ho deciso di non andare lì. Cipro, posto inquietante, incapibile. Quindi secondo te dove sono andato a finire? Sono andato a finire a Dubai. Perché sono andato a finire a Dubai? Ma siete tutti a Dubai, voi che fate business online. Sì, siamo tutti qui perché qui la tua mentalità, quando ti paghi un'acqua panna 10 euro, 10 euro un'acqua panna, la tua mentalità cambia. Inizia a capire che se anche guadagni una barca di soldi, ma non vuoi pagare le tasse, comunque ci sono dei costi, quindi tutti coloro i quali vivono in questa nazione abbastanza contraddittorie, ma comunque che supporta il business, sono persone che fanno grandi risultati, persone che vivono, vivono qui, vivono. 3.000 euro d'affitto al mese, 7.000 euro di costi ogni mese, mangiare un broccolo 5 euro. Cioè capisci che è una scelta di vita. Se tu vuoi crescere da imprenditore devi fare le fasi, non puoi. Io vedo delle domande di persone che dicono, ma non potevi rimanere in Italia, ma perché? 2010 me ne sono andati negli Stati Uniti, 2011 sono tornato negli Stati Uniti, 2012 l'anno peggiore della mia vita, 2013 sono tornato negli Stati Uniti a lavorare, 2014 sono tornato in Italia, un incubo, un'agonia, sono andato in Sud America a fallire, a perdere soldi. Non ho mai vissuto in un mercato sfavorevole. L'imprenditore digitale ha un prezzo grande da pagare, che è quello di lasciare indietro gli altri, ok? E non lo ripeto più questo. Se tu non lasci indietro gli altri, sei destinato al fallimento. Perché arrivi a un punto in cui le persone che non seguono questo stile di vita, ti tirano indietro, ti risucchiano nel secchio, come il granchio che vuole uscire da secchio e viene risucchiato da chi non vuole uscire da questo secchio. Vabbè, a parte questo vaneggio, purtroppo io ho deciso così. Ci sono dei lati negativi in questa scelta, te lo posso assicurare. Ci sono dei lati atroci in questa scelta, come stare lontano dalla mia famiglia, stare lontano dalle persone magari che voglio avere attorno, lasciare tutto, combattere con la burocrazia micidiale di un paese spietato per chi non fattura. Ma sai cosa? Questo ti spinge a fare risultati, questo ti spinge a andare a livello successivo. Quindi se vuoi fare l'imprenditore digitale sul serio, caro amico, devi seguire questa routine. Contenuti, test, contatti, vendite. Devi isolarti dalle persone che non fanno il tuo lavoro perché sei destinato a perderle comunque e più ci stai vicino più torni indietro e più ti fai influenzare. E devi condividere il percorso con chi lo fa. Federico prima chiedeva, ma dove trovo persone che pensano come me? Federico io ti vedo nei live dei più disparati formatori là fuori. Se tu non prendi una decisione di chi seguire fino alla morte, non farai mai un euro nel mondo digitale. I formatori là fuori sono tutte persone, almeno quelli che vivono all'estero o che fanno vedere risultati, numeri. Sono persone che hanno fatto grandi risultati ma l'hanno fatti da soli. Si sono spaccati il C da soli, si sono messi lì giorno e notte a studiare, a formarsi. Hanno pagato mastermind a migliaia di euro. Con una persona specifica che gli dava la chiave per arrivare a quel livello. Quindi finché tu, imprenditore digitale, non sei disposto a dire seguo questa persona e vado direttamente dove è andata lui, la mia vita è cambiata quando io ho seguito una persona che aveva quello che volevo. Questa persona faceva 30-40 mila euro al mese nel network marketing. Questa persona poi è sparita, però mi ha dato la mentalità per dire se ce l'ha fatta lui ce la faccio anch'io. E oggi l'ho superato come livello. Ci sono mesi, ti dico la verità, che supero anche queste cifre. Perché te lo dico? Per farti capire che in questo settore si fa la grana. Se io non fossi stato capace, non avessi avuto il coraggio di fare queste scelte drastiche, abbandonare la mia famiglia, non avrei potuto poi dare alla mia famiglia una tranquillità economica che il loro figlio ce l'aveva fatta. Comunque sono indipendente finanziariamente, 30 anni, conosci qualcuno? Tutti i miei amici, tutti quelli che mi pigliavano per il culo, me li sogno tutte le notti, tutte le notti me li sogno. Sai cosa mi sogno? Sono un sogno ricorrente. So che non va bene, dovrei eliminare il blocco, vabbè. Ti dico sto sogno ricorrente. Sono io, nel passato, come sono adesso. E vedo queste persone che mi pigliano per il culo e io gli rispondo e le derido pesantemente. E questo è successo, ed è una sensazione atroce, cioè non è bella. Sono tornato nel passato, ho incontrato persone che non erano molto nelle mie grazie, e mi prendevano in giro per anni e anni e anni e queste persone continuavano a pigliarmi per il culo. Capisci il paradosso? Però io le guardavo con tranquillità e gli faccio, guarda. Mi hanno chiesto, ma tu, Fabio, qual è il tuo obiettivo quest'anno per pigliarmi ancora per il culo? Visto che vedevano che comunque faccio in giro sempre il mondo. Mi hanno detto, guarda, Luca, il mio obiettivo è fare un milione. Silenzio totale, silenzio atroce, di persone mediocre che ti provano a fermare dall'arrivare dove vuoi arrivare. E l'unico modo oggi, a meno che non ti inventi una start-up assurda, è il digitale. Non ci sono altri modi. Questa sera ti ho detto roba che normalmente non dico, però è meglio che te la dica qualcuno, giusto? Quindi dove trovi, Federico, queste persone o tutte le persone che fanno questa domanda? Dove trovo persone come me? Le trovi al prossimo evento, o l'Inners Conference, ottobre. Non posso dire la data perché giovedì la lanciamo. Devi frequentare eventi dal vivo, devi conoscere le persone, devi creare alleanze. Devi stringere rapporti perché se no non ce la farai mai. Se rimani dietro un live a fare domande, è quello là. E' quello là. Tutti noi, che ci prendiamo il lusso di insegnare questa disciplina difficilissima, abbiamo avuto risultati assurdi. Come verifichi il risultato assurdo di uno che insegna? Vedi dove vive. Vedi cosa fa, quello che dice. Vedi il vero stile di vita. Non è che puoi comprartelo, eh. Non è che uno fa un live qua da Dubai Marina, che tra l'altro è molto più chiara di Dubai Downtown, quindi fatti due domande. C'è chi vive a Downtown Dubai, che è un posto pieno di smog, non c'è un filo di verde, e c'è chi vive sul mare. Secondo te dove si paga di più? Sul mare o in mezzo allo smog? Quindi quando segui un professionista, devi capire la realtà dietro a quello che dice. Sicuramente chi fa live dalle case popolari, oppure ti dice roba che non ha mai fatto, seguilo, poi andrai a venire dove sono finiti loro. Sul web è molto difficile capire chi seguire. Devi seguire chi ti senti, la persona con cui ti senti in sintonia, che ti dà roba pratica da applicare, cose pratiche da fare. Quindi devi superare le difficoltà, devi isolarti, isolarti. Se hai un lavoro da dipendente, devi isolarti, mettiti i tappi, non ascoltare gli sfigati che si lamentano tutto il giorno. Devi crescere, devi soffrire, devi andare a casa, aprire quel pc e testare, mandare contenuti con la strategia giusta. Se lo fai a caso, bruci i soldi. Se non fai risultati, hai un casino totale nella tua mente, fai una cosa. Se non hai risultati, hai un casino totale nella tua mente, celebra. Celebra. Mi dici, ma sei pazzo, perché devo celebrare se non faccio risultati e ho un casino nella mia mente? Perché? Perché se non celebri e ti prendi male, lascia perdere. Ti danneggi la salute. Quindi questo è importante. E nella creazione di contenuti, nei test, devi creare un brand, devi diventare un'autorità. Perché io parlo sempre di autorità? Perché ho lanciato il sistema authority? Sistema authority. l'unico sistema che ti eleva dai competitor, li annulla tra i contatti e gli prendi i soldi. Perché tu hai un problema, un problema grave. Che hai contatti, non gli prendi i soldi. E se non gli prendi i soldi, non puoi aiutarli. Che questi contatti arrivino nel tuo negozio, che questi contatti ti contattino sulla tua pagina Facebook, non importa. Hai un problema grave di comunicazione e se non lo risolvi oggi, sei fuori. Ripeto, nel 2019 il gioco si è fatto duro. È duro. Io, per mandare una persona a vedere il training qui sopra nel link, sai quanto spendo a volte? Spendo anche 10 euro. Ci sono giornate in cui spendiamo centinaia di euro a vuoto. A vuoto. Il mondo digitale non è un gioco. Se pensi di lavorare online e non pagare per uscire dall'oscurità, sei fregato. Ti sputtani e basta. Quindi ti invito a non farlo. E spero che questo live realmente vero ti abbia aiutato a fare un po' di chiarezza. Questo è il mindset che devi avere se vuoi lavorare online. Ti ho detto un po' di verità in questo live. Ti ho anche detto un po' di opinioni. Adesso vado a fare una cosa. Vediamo un po'. Vado a condividere questo live. Allora, condividi questo live, ok? Se vedo che arriviamo a 50 condivisioni ti mando un contenuto su Messenger, ok? Su Messenger commenta il post e condividilo e ti mando un contenuto. Però dobbiamo arrivare a 50 condivisioni. Siamo più di 60 in diretta in questo momento? Condividi questo live. Se lo condividete tutti vi mando tutti un contenuto. Come faccio a mandarlo? Grazie a un sistema da marketer per questo ti chiedo di commentare. Se non commenti non posso sapere che l'hai condiviso perché ho l'algoritmo che mi va a vedere chi ha commentato e l'ha condiviso. Quindi condividi e ti mando un argomento, un contenuto speciale su come gestire i contatti e fare in modo che poi ti paghino, ok? Un contenuto ti mando un'anteprima del mio corso authority che non ho ancora condiviso con nessuno non è nella playlist di youtube quindi facciamo questa pausa di due minuti due minuti condividi ti do due minuti di tempo in cui facciamo una pausa in silenzio in cui devi condividere questo live se no non vado avanti condividi questo live fammi delle domande intanto che tutte le persone condividono fammi delle domande nei commenti fammi sapere se hai qualche domanda qualche problema perché fra un pochi minuti devo staccare abbiamo una sessione in cui parliamo di ottimizzazione traffico web e come creare contatti come analizzare le campagne nel mentor program che è il programma di otto settimane che io e Matteo Pittaluga portiamo avanti e nel frattempo ti invito a fare una cosa se non l'hai ancora fatto iscriviti al webinar qui sopra un webinar gratuito una lezione gratuita su questi argomenti come attrarre contatti chiudere vendite e annullare la competizione ci sono tantissimi professionisti che si stanno avvicinando a questi argomenti sono veramente felice che ci sono professionisti intelligenti se tu non cambi il modo in cui lavori vieni spazzato via puoi non lamentarti ma lo stato non esiste lo stato tu hai deciso di lavorare in quel mercato ti devi adattare devi fatturare per sopravvivere quindi cerca di farti formare da gente che fa le cose che tira fuori l'imprenditore dal problema non ci credi? vai a comprare vai a comprare la roba teorica vai vai prendi appunti vai agli eventi quelli tristi tutti col cartellino prendi appunti vai a casa non sai che cazzo fare ti rendi conto il dramma formativo che c'è fuori? da fuori c'è un dramma formativo di solo teoria la teoria dovresti fare così sì ma dimmi come farlo io non è che ti dico dovresti chiudere i contatti prendergli soldi ti dico esattamente cosa dire a ogni persona che ti dice non ho soldi non ho tempo ti faccio sapere mandami un preventivo sei un cliente che ti chiede mandami un preventivo sai cosa devi dirgli? non lo sai cosa devi dirgli e immagino che tu prepari i preventivi li mandi e quella persona sparisce sparisce nel nulla quindi la domanda è perché ti fai prendere in giro così dai clienti vabbè come crearsi contenuti di valore come prepararsi allora Ludmilla ti rispondo subito come rispondere ai clienti che chiedono info questo lo spiego in authority ti aspetto lì non posso rispondere a questa domanda perché è realmente la chiave ma ti assicuro che avrai risposta presto se farai l'azione di lavorare e diventare un mio studente però rispondendo a Ludmilla che ha fatto una domanda interessante e intelligente come creo contenuti di valore il contenuto di valore lo crei se studi studia come i pazzi nel tuo settore diventa il numero uno l'esperto e poi dai valore là fuori la domanda che ti devi fare è questo contenuto che aiuto apporta alle persone anche quando pubblichi una foto su Instagram questa foto come sta aiutando i miei follower basta pubblicare foto inutili contenuti inutili selfie cosa serve sta roba serve a distruggere la tua autorità quindi il modo migliore per creare contenuti di valore è saperne a tronchi Fabio Gallerani non prepara nulla né prima dei live perché questa roba di cui ti parlo prima l'ho vissuta in prima persona e quindi sono un esempio plateale però la so a memoria la vedo tutti i giorni la implemento per questo posso insegnarla ok vediamo un po' se un cliente ti dice info tu cosa gli rispondi allora questa è una domanda un po' diversa da quella di Cabor praticamente quando uno ti chiede info realmente il tuo obiettivo è scoprire esattamente che informazioni vuole quindi è inutile che copi incolli la risposta devi sapere esattamente che informazioni vuole ragazzi iscrivetevi al webinar qui sopra so che molti di voi l'hanno visto fai azione perché il 19 aprile venerdì alle ore 21 ho una sessione intera non so quante ore durerà con i miei studenti su come rispondere a queste domande fare in modo di trasformare ogni richiesta di info in cliente che ti paga per oggi direi che è tutto vado a vedere se ci sono altre domande qui ok sembra che non ci siano più domande anche perché devo scappare cosa suggerisci di leggere a Ludmilla leggi tutti i possibili contenuti sul argomento in cui vuoi diventare un'autorità assolutamente studia tutti i giorni Katia dice Autority il mio migliore investimento piantala di seguire i miei contenuti gratuiti se i miei contenuti gratuiti sono così mostruosi pensa a cosa succede se paghi paga se non paghi non sei compromesso non farai mai una lira non farai mai un risultato te lo dice un trentenne che ho compiuto ieri trent'anni praticamente che fa 50k al mese netti in tasca in banca se non ci credi scrivi in privato ti mando un po' di screenshot basta che non li condividi se no ti denuncio e non sono molto simpatico quando chiamo i miei avvocati non ci credi fallo e curiosity marketing non so neanche cosa sia mi sembrano tutti i nomi del cazzo per creare contenuti e vendere corsi a caso su nomi inventati quindi l'unica cosa che devi fare è promuovere attrarre contatti prendere gli soldi non esiste altra via staccati dalle persone che ti buttano giù persone che sono nel matrix che non vogliono di più e mi raccomando ti aspetto al prossimo lunedì probabilmente inizierò a fare delle masterclass su questi argomenti masterclass chiaramente che non possono essere approfondite come quelle che faccio private per i miei studenti perché loro pagano e chi paga merita di più mi dispiace questa è la mia visione alla vita se pensi che la roba gratis sia meglio io bene non sono il professionista che fa per te anche perché sai benissimo che ti insegno a prendere soldi e non fare sconti quindi se io ti facessi sconti e ti insegnassi la roba free immaginati che presa per il ci sarebbe seguimi sui social e segui il mio podcast powercast.it devo scappare ci vediamo al prossimo live vivi il tuo potenziale non hai alternative e mi raccomando cambia la tua mentalità da imprenditore digitale o sparirai per sempre ti mando un abbraccio ciao ciao